Siamo alla domanda numero 275 del Catechismo di San Pio X. Abbiamo visto che i sacramenti ci danno la grazia e la grazia è lo Spirito Santo, la grazia è Dio in noi. Quali sacramenti ci accrescono la grazia? Ci accrescono la grazia la cresima, l'eucaristia, l'estrema unzione, l'ordine, il matrimonio che si chiamano sacramenti dei vivi perché chi li riceve deve già vivere spiritualmente per la grazia di Dio. Eh sì, guardate che questo non è una cosa di poco, sono sacramenti dei vivi perché chi li riceve deve già essere in grazia di Dio. Fa veramente tristezza vedere gente che va a sposarsi e non fa la comunione. Perché non fanno la comunione? per un motivo molto semplice, perché non sono in grazia di Dio. Non hanno un rapporto di amore con Dio e quindi non lo vogliono o non lo possono avere. È terribile, è come andare, diciamo così, un assetato che va a una fontana e ci va col colapasta. Che cosa raccoglie per bere? Non raccoglie niente, tre gocce d'acqua, inutile. E figurati tu vai per sposarti e Dio ti vuole dare una grazia straordinaria, grandissima, soprattutto in questi tempi di impurità, di adulteri, di omosessualità, di gender fluid, di tradimenti a raffica, di mondo che ti esorta a tradire il marito, la moglie. Dio ti vuole dare tutta la grazia sovrabbondante per vivere la fedeltà, l'apertura alla vita ai figli, l'amore per la famiglia, per i figli, essere testimone fedele, di essere come una sorta di nuova, sacra, santa famiglia davanti al mondo, che tutti guardando ti dicono ma che bello, ma io voglio essere così, voglio avere una famiglia come quella lì. Ecco, tu vai per fare un matrimonio così per ricevere tutta questa grazia di Dio e invece che andarci con una cisterna enorme di quelle da 4.000 litri o da 12.000 litri, un'autocisterna, ci vai con il colapasta, che grazie avrai poi nel tuo matrimonio, che dopo tre mesi sarai già separato e divorziato. È semplice e questo capita in una serie innumerevole di casi. È inutile che mi veniate a dire oh ma sei cattivo, tu giudichi. No, non giudico nessuno. Questi sono numeri. La stragrande maggioranza dei matrimoni che si celebrano in chiesa finiscono in separazione o divorzio. Vi siete mai domandati perché? Forse perché chi ci va non è stato ben formato accolgono a sposarsi gente che non deve sposarsi in chiesa. Eh ma non fa bello non sposarsi in chiesa, andare solamente in comune. Ormai tanti lo fanno, tanti neanche più si sposano. Non fa bello perché la nonna, perché lo zio, perché il papà. No. Tu, caro prete, non li devi sposare. Se non hanno la piena consapevolezza di quello che vogliono fare, non devi dargli lo sacramento, altrimenti ti rendi complice dei loro peccati. Allora, questi sacramenti aumentano la grazia. Sono la cresima, è lo Spirito Santo, l'Eucarestia, ma il sacramento che possiamo ricevere tutti i giorni. L'Eucarestia, Gesù che viene in noi. Possiamo riceverlo stando in peccato mortale? No, non possiamo. Facciamo un sacrilegio, roviniamo la nostra anima, facciamo soffrire ancora di più Cristo. L'estrema unzione o unzione dei malati, anche quello aumenta la grazia. Io prima di affrontare il mio cammino di malattia e di cure, di tutto quello, ho fatto l'unzione dei malati e il Signore mi ha dato davvero tanta grazia per, non tanto per guarire, ma la grazia di accettare le sofferenze della malattia, le sofferenze delle cure, che sono state molto forti, ma con la grazia di Dio sono state una gioia, veramente, perché la grazia di Dio trasforma il male in bene e questo è stupendo. Il male rimane male, ma messo a servizio dell'amore, l'amore al prossimo, l'amore alla famiglia, l'amore alla Chiesa, l'amore al Papa, l'amore a Dio, l'amore a Cristo, la Madonna, diventano bene, come Cristo ha trasformato la sua passione in amore e quindi in bene. L'ordine, anche il sacramento dell'ordine, aumenta la grazia. Non è che il prete, siccome lo ungo diventa prete, diventi santo. Certo, lo diventa per grazia, però bisogna che aderisca, bisogna che già sia in grazia di Dio e che conservi questa grazia e che la aumenti con la celebrazione poi dell'Eucaristia, con la confessione, con tutti questi sacramenti. Allora, si danno ai vivi perché abbiano più vita. Io sono venuto, dice Gesù Cristo, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dio ti vuole dare più vita, non ci vuole togliere niente. Non credete agli atei, ai miscredenti, ai falsi credenti che dicono che Dio ci vuole togliere qualche cosa. Quello era il demonio che dice ad Adamo e Eva che Dio è invidioso di noi e per quello che non ci permette di peccare. No, ma figuriamo di cosa vuoi che sei invidioso? Ci ha dato tutto, sciocco. Non è invidioso di niente. Dio ci vuole dare di più, di più. Ci sono certe cose che vanno evitate perché quelle ci fanno avere di meno. Ci tolgono la grazia, ci tolgono la gioia, ci tolgono l'amore. È ovvio, il tradimento, l'adulterio toglie l'amore. Come puoi avere la gioia dell'amore matrimoniale se tradisci tua moglie e tuo marito? Non puoi rovinire anche la gioia a lei o a lui. E quindi no all'adulterio, no al peccato, qualunque peccato dei dieci comandamenti perché altrimenti ci facciamo del male e facciamo del male anche agli altri. Allora se noi riceviamo questa grazia la nostra vita cambia in meglio. Dio ci vuole felici. Quali sacramenti ci accrescono la grazia e quindi ci accrescono la gioia? Ci accrescono la grazia, la cresima, l'eucaristia, l'estrema unzione, l'ordine, il matrimonio che si chiamano sacramenti dei vivi perché chi li riceve deve già vivere spiritualmente per la grazia di Dio.